per la seconda batteria Cristian Giancarlo Macchetti in corsia uno, Marco Tarzerioli in due, Riccardo Rossetto in tre, Anzoni Andrea Pestrini in quattro, Matteo Calzeloni in cinque, Enrico Del Pivo in sei, Marco Biasutti in sette Elia Zanella in corsia otto Daniele Ortolan, corsia quattro per Notlinuoto settantaquattro a vincere la sua batteria con cinquanta nove e cinquanta cinque grazie grazie